Campania, zona rossa. I cittadini di Torre del Greco si dividono a metà tra chi supporta e condivide la zona rossa ma chiede maggiori controlli ad oggi pressoché inesistenti ad eccezione fatta di qualche pattuglia della municipale. E' un'altra parte di cittadini che invece chiede un supporto economico per le continue chiusure delle attività commerciali che da circa un anno si verificano. Torre del Greco da lunedì 8 marzo è entrato in zona rossa, la fascia più restrittiva prevista dal governo che vede la chiusura delle attività commerciali di abbigliamento, centri estetici, barbieri e parrucchieri. Oltre al servizio esclusivamente di asporto per le attività di ristorazione e bar, attivo fino alle 18, dopodiché consegna domicilio senza limiti di orari. I cittadini possono circolare solo con valido motivo e muniti di autocertificazione. Nonostante ciò, le persone strada non sono di certo diminuite. Gruppi al di fuori di bar e nelle piazze, alcuni con mascherine abbassate. I controlli sono rari e si limitano a qualche pattuglia della polizia municipale che timidamente circola nelle strade del centro. Una zona rossa che viene letta in modo errato dai cittadini, complice anche la primavera ormai alle porte e giornate di sole che si prestano a quattro passi in centro.